Apriamo quel pulsante, scendiamo subito sotto C'è un quadro molto importante Apri subito quella porta Ciao 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 suora, me ne vado, me ne vado, me ne vado Mamma mia, mamma mia Rod sta per essere generato all'interno della pancia della suora Carissimi amici, è arrivato PaninoTube E oggi sono qui per parlarvi di tutti i riferimenti di Ice Cream 4 su Evil Nun 2 Ebbene sì, nel secondo capitolo della suora Possiamo trovare molti riferimenti, molti indizi Che ci fanno appunto collegare il gioco al quarto capitolo del gelataio Mamma mia, non vedo l'ora di partire subito Quindi mi raccomando, lasciate qui sotto tantissimi like Vi chiedo gentilmente di lasciare più like possibile Quindi qui sotto, mi raccomando, lasciate tanti miei pollicieri in su Voglio vedere fin dove riusciamo ad arrivare Perché per questo video ho trovato davvero tante belle cose Quindi come sempre, facevo sempre il solito gioco dei like Se like che lascerete sarà pari Il personaggio associato a voi sarà Sister Madeline Nella suora di Evil Nun Se invece il like sarà dispare Il personaggio associato a voi sarà Rod Il gelataio di Ice Cream E se invece il numero dei like finirà o con lo 0 O con il numero 5 Il personaggio associato sarà il Mini Rod Quello che incontreremo su Ice Cream 4 Fatemi sapere qui sotto nei commenti quale personaggio è uscito fuori Iscrivetevi al canale con la campanella attiva Per far parte anche voi della Parino Family Ci tenevo pure a ringraziare uno di voi che ha fatto l'abbonamento Ossia Alessandro del Tosto Grazie mille davvero tanto per l'abbonamento Ma adesso partiamo subito Cominciamo e partiamo innanzitutto Voglio partire con Evil Nun 1 Perché non so se voi vi ricordate C'è un quadro che i Kiplerians ci avevano mostrato un po' di tempo fa Che è praticamente l'anello di congiunzione Fra la serie di Evil Nun La serie di Ice Cream Con il quarto capitolo del gelataio Ed eccoci qua Evil Nun 1 Tocchiamo subito gioca Facciamo subito gioca Qua nel primo capitolo della suora C'è già il primo riferimento ad Ice Cream 4 C'è questo qua che è il primo gioco che è stato fatto da Kiplerians C'è già il primo riferimento al quarto capitolo del gelataio Già ai tempi Mamma mia C'è questi qua hanno proprio pensato in avanti Già da anni fa Proprio anni e anni fa Perfetto Se ne andiamo di sotto qua nel bunker Apri quel coperchio Apriamo quel pulsante Scendiamo subito sotto C'è un quadro molto importante Un quadro che proprio gli sviluppatori Hanno detto che è l'anello di congiunzione Fra tutta quanta la serie che ne abbiamo visto finora Evil Nun 1 Evil Nun 2 Con Ice Cream 4 E leggiamo subito qua Eccolo qua Pensavo di andare in un campeggio estivo Sono qui da molti giorni Penso che mi abbiano mentito Non so se i miei genitori sapessero dove mi stavano portando O facevano parte di questa rara storia Però non mi importa più molto Anche se mancano Papà Mamma La suona cattiva E ora la mia unica famiglia Lei fa quello che può Ma lei non sa cosa sia l'amore Non da quando quella disgrazia è accaduta Vabbè sappiamo Su Evil Nun 2 Abbiamo scoperto che la suona aveva una figlia Una figlia che è venuta a mancare Infatti la suona in passato Prima di diventare suona Era una scienziata E aveva una figlia Purtroppo questa figlia A causa di un incidente È venuta a mancare Lei ha deciso quindi di diventare una suona Per dimenticare tutto Il problema però è che l'idea di avere la figlia Di riavere indietro sua figlia L'ha portata a diventare quella che è ora E questo è il primo riferimento ad Escrime 4 Escrime 4 quindi riprenderà Oltre dal finale segreto Che abbiamo visto nel terzo capitolo Del gelataio Riprenderà anche da questo quadro Da questo quadro Che guardiamolo bene Cosa c'è raffigurato qua Qui c'è una fanciulla Che viene portata via Viene portata via Proprio non so come Possiamo interpretare in realtà Questo quadro in due modi O ad esempio Elisa quando è venuta a mancare Oppure quando la suona ha partorito E le hanno portato via Il figlio Che è appunto Rod Rod è il figlio della suona Generato però Attraverso un miracolo Di un demore Quel demore sappiamo bene Che è Nasrat Adesso però passiamo ad Yvonan 2 Noi vediamo i riferimenti Del quarto capitolo del gelataio Nel secondo capitolo Della suona Ed eccoci qua Yvonan 2 Tocchiamo subito Gioca No voglio fare questo video Almeno in facile Perché voglio divertirmi Un po' con la suona No perché dopo tutto Come ben sappiamo Ho fatto tutti questi video News Teorie Però voglio divertirmi anche un po' con il nemico Quindi però L'intro Noi la saltiamo La guardiamo un po' Guardiamo più che altro La prima parte Perché è il fattore di Elisa Elisa è la chiave principale Che collega tutta quanta la storia Eccola qua Sta partendo il filmato iniziale Qui siamo all'interno della scuola Di Sister Madeline E questa è la prima foto di Elisa La figlia della suoretta Che sappiamo bene Che adesso è stata reincarnata In Gammy Eccola lì La suora Che ha parlato all'interno di quella classe Se ne sta andando via Penso che stia andando Dove c'è il suo ufficio La sua stanza Sì non è che penso Lo sappiamo Perché sto filmato Lo conosciamo bene E infatti guardate Sto facendo il giro Questo qua è il giardino L'abbiamo visto bene Questa è una foto dove c'è Elisa con Sister Madeline La sua cara madre Chissà se questa Elisa Alla fine ritornerà in vita Oppure no Se ci pensiamo bene Gammy è la reincarnazione di Elisa Dentro Rod c'è anche la parte di Elisa Molto strana sta cosa effettivamente Molto molto strana Va bene La suora ha raggiunto la sua scrivania E sta riprendendo a leggere Ovviamente come ben sappiamo La suora ha deciso di diventare suora Per dimenticare Elisa Però purtroppo il ricordo di questa figlia Le tormenta sempre dentro Infatti adesso vediamo proprio che Tornerà tutto quanto alla mente E lei ha pure fatto degli esperimenti Esperimenti per cercare di riportarle in vita Prima attraverso dei polli mutanti E adesso sta provando Con i fanciulli Il personaggio che ne controlliamo Infatti è un fanciullo che È tenuto prigioniero dalla sua Perché la sua vuole provare A far tornare in vita Elisa All'interno di lui Però poi sappiamo che non succederà così Anzi Ok la sua si è arrabbiata Adesso vabbè questa parte Posso pure schipparla Tanto è sempre qua C'è la suora che sgredda qua Il personaggio Il personaggio comunque Per chi non lo sapesse È il famoso bambino Dalle mani blu Lo conosciamo molto bene sto bambino Eccoci qua Devo fuggire da questa scuola Andiamo a parlare del primo riferimento Di Escrime 4 Su Ivan 2 E lo troviamo subito qua All'interno della stanza di Sister End Ora spero solo che i polli mutanti Non mi raggiungano Perché sennò veramente sono fritto Qua possiamo ben vedere Qui sotto Ci sono dei gelati C'è una scatola di gelati Frosty Ice Cream È la marca dei gelati Di Ice Cream No 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 Via 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 Andiamo 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 Subito qua sono i polli Subito 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 Ok Apriamo quella porta Per qualche strana ragione Non mi hanno visto E vabbè Via 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 gambi Via 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 Andiamo 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 Apri subito quella porta Ciao 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 Suora Me ne vado me ne vado Me ne vado Mamma mia mamma mia Non chiedetemi come Sono riuscito a fare tutto quanto Non chiedetemi come Perfetto E quello è il primo riferimento Di Di Rod No Del quarto capitolo Del gelataio Adesso azioniamo qui la leva Però effettivamente Dovevo prima prendere Il codice della cassaforte Così faccio uscire fuori Sisterenda Va bene Direi che lo possiamo fare Anche dopo Aziona qua la leva Ce ne andiamo qua All'interno della scuola Mamma mia Mamma mia Quale riferimento Possiamo trovare qua All'interno di questa scuola Che collega con Ice Cream 4 Lo vediamo adesso Vi ricordo comunque Perché non lo sapesse Che quella scuola Che abbiamo appena visto È la madre diretta Di Ice Cream È la madre diretta Del gelataio Ci tengo a ripeterlo Perché purtroppo Molte ancora non sanno Che la scuola È la madre di Ice Cream Comunque Primo riferimento Che possiamo trovare Si trova qua All'interno di questa stanza Vedo pure se trovo il reghello No non c'è Qui dentro ci sono Tutti quanti i quaderni E le ricerche della scuola Ma guardate bene Questo quaderno qua Non so se voi Ci avete fatto caso Ma è l'unico quaderno Diverso da tutti gli altri Mentre bene o male Gli altri sono comunque Un po' simili tra di loro Ad esempio questi qua Sono gialli Questi qua sono in blocco Tutti quanti Dello stesso colore Questo è l'unico quaderno Che è diverso Da tutti gli altri E se questo qua Fosse il quaderno Degli appunti Della scuola Potrebbe essere Potrebbe essere questo Poi vediamo ancora meglio Però c'è sempre Questo armadio Un armadio segreto Cosa tiene nascosto La scuola qua dentro Perché non posso Aprire questo armadio Io voglio vedere Che cosa c'è qua dentro Voglio veramente vedere Che cosa c'è Spero in un prossimo Aggiornamento Che possiamo scoprirlo Lo spero veramente tanto Ora Cerchiamo sto righello Anche se in realtà Non è che ci serve Più di tanto il righello Effettivamente Vabbè io lo prendo Lo prendo volentieri Adesso scendiamo sotto Andiamo subito A metterlo Per sbloccare il solaio Anche se lì dentro Non dovrebbe esserci Il riferimento Da escro in quattro Non penso proprio No in realtà Ci dobbiamo andare Perché uno degli altri Riferimenti È il padre di Rod Ma adesso ci arriviamo Non vi preoccupate Non vi preoccupate Adesso avremo tutto quanto Quindi azione Qua la leva Si devo trovare adesso Però gli occhiali Emo qua Veramente ne ho da cercare Ne ho veramente tanto Ok Apri quel coperchio Speriamo che nessuno Sia venuto di qua ora Speriamo veramente Saliamo 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 Veloci 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 Io nel dubbio Sapete che faccio Io ci piazzo una trappola Ce la piazzo Non si sa mai Adesso cerchiamo Sti occhiali Veramente Qua niente E te pareva qua Ma veramente Per cercare sti occhiali Ci metterò le ore Ci metterò veramente Le ore E tanto vale Che lo facevo in fantasma Sto video Però no no Voglio divertirmi un po' Anche con i nemici E se no poi E basta parlare sempre Di teorie Senza divertirsi Con i nemici Su occhiali Fatevi vedere Fatevi vedere Per favore Per favore E niente E niente Qua mi faranno girare le ore Mi faranno girare Tutte le aule Oh Trovate finalmente Li abbiamo trovati Adesso dobbiamo Subito scendere sotto Veloci 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 Prima che la sora Venga di qua Scendiamo 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 Solo che ora ho perso il righello Dove l'ho messo il righello Dove l'ho messo Vabbè non importa Non importa Andiamo di qua Ci torniamo dopo di qua Ci torniamo dopo Allora Ah no il righello L'ho messo in realtà L'ho già inserito Meglio così Meglio così Perfetto Quindi aziona qua la leva Lanciamo qua gli occhiali Raccogliamo la lente Su lente Dove sta la lente Mi è sparita la lente Eccola qua Trovata Trovata Perfetto Andiamola subito a montare Così abbiamo riparato Il cannocchiale Che bello Allora Andiamo di qua Speriamo di non trovare nessuno Adesso Per favore Via 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 Ci torniamo un altro giorno Ci torniamo un altro giorno Qua dentro No avete visto No ci sta la suora Meglio non andare A dar fastidio In questo momento Meglio di no Quindi questo Per il momento Lo lasciamo di qua Saremo di sopra Andiamo a recuperare Il codice della cassaforte Così possiamo subito Prendere il femore Facciamo soltanto Attenzione Speriamo che non si trovi Nessuno di qua Chiudi la porta Sei 13 a 7 Via 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 Ok ok No no forse non era Sei 13 a 7 Però O forse era Sei 12 a 7 Non mi ricordo Soltanto che Mi è subito comparso il pollo E me ne vado subito di qua A mettere il codice Veloce veloce Cerchiamo solo di far cadere Quella scatola di gelate In modo da evocare Joseph Il padre di Rod Ok apri qua Perfetto Non ci sta nessuno di qua Veloci 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 Via 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 Andiamo di qua Velocemente Metti qua Allora Forse Sei 13 a 7 O sei 12 a 7 Non mi ricordo Ok Sei 12 a 7 Era Prendi quel femore Adesso Facciamo scendere Sister hand Qua sotto Sorretta Vieni qua Dlindro Vieni 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 E ora Di sopra Andiamo qua A far cadere La scatola Di biscotti Sì Scatola di gelate Volevo dire Che scatola Di biscotti Quella sta sui Volnan 1 Forse sui Volnan 1 Sarebbe stata meglio Una scatola Di gelate Così giusto Per collegare Tutte quante le cose Adesso questo Lo droppo di qua Velocemente Su su Droppa Droppa E adesso Andiamo di qua Nel solaio E mettiamo subito La lente Perché adesso Vedremo un altro Riferimento Di ice cream 4 Su Evilnan 2 Ora la lente L'ho lasciata Dove si trovano La lente Qua Che trasparente Prendi la lente Andiamola a montare Al cannocchiale Speriamo Adesso spero Che non si trovi Più nessuno Qua nel solaio Altrimenti Veramente Non ci posso credere C'è la suona Si trasferita Qua nel solaio Altrimenti Oh infatti Non c'è nessuno Di qua Perfetto E vabbè Non ci posso credere Che adesso qualcuno È di qua Veloce Veloce Perfetto Ottimo Hai aggiustato Il telescopio E adesso presto Vedremo Il padre di Rod E' importante Questa cosa qua Perché nel quarto capitolo Di ice cream Finalmente conosceremo Le origini Di joseph Sullivan Infatti si dice Che joseph Non era una brava persona Ci sono alcune teorie E vabbè Dai Però non è possibile Non è possibile Qua Su vabbè Ma dai Suora Non è giusto Però Eri andata via Eri andata via Volevo soltanto mostrare Il buon joseph Di qua E non è giusto Non vale Non vale Però suora Non vale Erano andati via Cosa ci fanno Di nuovo qua nel solaio Cosa ci fanno Su joseph Sarà arrivato ora Eccolo qua Il padre di Rod E' arrivato il padre di Rod Eccolo là Vabbè Bene o male L'importante era mostrarvelo Volevo soltanto mostrarvelo Questo E' un altro riferimento Da escro in 4 Come ben sappiamo Infatti Nel quarto capitolo Scopriremo Le origini Del padre di Rod E chissà C'è un'immagine Che lo ritrae pure Se forse in realtà Il padre di Rod Non è realmente mancato Oppure peggio ancora Rod possiede la pozione segreta Della suora La pozione che è in grado Di resuscitare Le persone Attraverso altri corpi Lui magari potrebbe Averlo resuscitato Attraverso un altro corpo Quindi Joseph E' tornato E inoltre Come vi dicevo Non è detto Che il padre di Rod Sia stata una brava persona Anzi Potrebbe essere stata Anche una cattiva persona Un cattivo gelataio Cosa voleva fare Realmente Joseph Cosa voleva fare Realmente Chissà Magari ci sarà Un altro capitolo Un altro gioco Dedicato a lui Che potrebbe essere Visto che comunque Lui è coinvolto In tanti Momenti In tante scene Ma adesso Torniamo di nuovo qua Perché voglio farvi vedere Altri riferimenti Che collegano appunto La serie di Ice Cream Con Evil Nan 2 Come possiamo vedere qua Infatti C'è questa scena Dove ci sono tutte queste suore Tutte riunite Questa scena Non so se mi ricorda bene E' collegata Con la nascita di Rod Quando Rod è nato Dove ci sono tutte le suore Che dicono E' un miracolo Come è potuto nascere Il gelataio In questo modo Come ha fatto Ma adesso Ultimo riferimento Tenetevi pronti Perché adesso Vedremo insieme Il finale segreto Di Evil Nan 2 Che è collegato appunto Con Ice Cream 4 Eccolo qua Il finale segreto Anzi Il vero finale Di Evil Nan 2 Ed eccolo lì Nazrat Colui che ha generato Rod Colui che ha dato origine Il gelataio Il mio nome è Nazrat Nazr Cosa Eccolo là Tu non sei stato L'esemplare Donna Come madre Ma E' il tempo Di poterti redimere Hai la possibilità Di redimerti Ma Posso comunque Esaudire il tuo desiderio Disumano Che appunto Il suo desiderio È quello di riavere Sua figlia indietro Si si Sarò tutta tua Mi dovrei dare 40 anni Della tua vita Sarò capace Affinché tu possa Portare Lisa indietro A partire da oggi Tu dovrai diventare Una madre Esemplare Per tutti gli esseri umani E non dovrai uscire Da questa scuola Mi chiedo perché Non dovrò uscire E mi dovrei Pregarli Eh pregarli Si pregarmi Volevo dire Si sarò capace Ma se tu romperai Queste regole Cosa succederà Lo sappiamo bene Cosa succederà Se non sarai Una buona madre Diventerai brutta E se non mi adorerai Perdere la tua Sanità mentale E sappiamo bene Che succederà Tutta sta roba E durante questo tempo Non vedrai più La luce Di tuo figlio E quello Sapete chi è? Lui è Rod È Rod Quello raffigurato lì Si Sarò capace Capace Si E vai E ora Tenetevi bene Perché vedremo insieme La generazione di Rod 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 sta per essere generato All'interno della pancia Della suora Ed eccola lì Guardatelo bene Vai È un miracolo È un miracolo Si Solo che adesso La suora sviene Perché giustamente L'emozione Provocano sta roba E qui abbiamo la scena Del bambino Delle mani blu Con il primo piano Di Nazrat Ed eccoci qua Questi sono i riferimenti Che possiamo trovare Di Ice Cream 4 All'interno di Evil Nun 2 Quindi cosa abbiamo visto? Abbiamo visto la pozione segreta Che l'altro Li ritroveremo anche Nel quarto capitolo Del gelataio Abbiamo visto le origini Di Rod E abbiamo visto anche Il padre del gelataio Infine c'è anche Quel quadro Quel quadro segreto Che collega tutta quanta la serie Proprio il collegamento Tra Evil Nun 1 Tutti e tre capitoli Di Ice Cream Evil Nun 2 E anche Ice Cream 4 Tutti quanti collegati insieme Quindi che dire Per il momento Direi di finire quel video Fatemi sapere cosa ne pensate Spero che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spalliciate che dividete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva E ci vediamo in un prossimo video E come sempre Vi auguro una buona giornata Buona serata E una buona rotte Ciao a tutti E buon panino a tutti E buon panino a tutti